Sono nuovamente in partenza, questa volta per lo Zambia, dove l'Africa Chiama è già presente da 12 anni con numerosi progetti umanitari. In questi anni l'associazione ha già costruito una scuola primaria e un reparto di fisioterapia per bambini disabili. Successivamente abbiamo ampliato la struttura della scuola, che oggi ospita anche una scuola secondaria. È presente anche un poliambulatorio, una piccola clinica, dove circa 800 pazienti vengono visitati da uno staff medico locale. Sono opere molto impegnative che ci vedono presenti in una zona che si chiama appunto Kaniama, dove vivono 250.000 abitanti in una situazione di disagio. Così ci siamo accorti che spesso la disabilità è legata a delle condizioni igienico-sanitarie delle mamme che non vengono seguite durante la gravidanza o durante il parto, nei primi mesi di vita. In Kaniama è presente soltanto un ospedale con sei posti letto. Questo significa che praticamente soltanto una donna su dieci si reca in ospedale per il parto. Allora, grazie a delle donazioni, abbiamo deciso di metterci al lavoro per la costruzione di un ospedale. Quindi il motivo di questo viaggio è la messa in posa della prima pietra dello Shalom Maternity Clinic. Un'opera importante che vedrà appunto la realizzazione di 18 posti letto, due sale parto e due sale travaglio. Il Ministero Zambiano ha riconosciuto questa struttura, si impegnerà a inviare medici, personale, parametrico, ostetrico per la struttura. Già dai prossimi giorni appunto inizieremo i lavori del primo lotto e ci auguriamo di terminare la struttura nei mesi successivi con una raccolta fondi mirata. E quindi questo è un appello a tutti i sostenitori e amici dell'Africa Chiama che vorranno contribuire anche con una piccola somma alla realizzazione di questa importante struttura che dà diritto alla salute e restituire un po' di diritti e di giustizia a tutti.